ben ritrovati a tutti all'interno delle nostre trading room tempi davvero durissimi per quanto riguarda la carne eh vegetale oggi andiamo a parlare e discutiamo insieme di uno dei eh big per quanto riguarda questo business nel settore appunto eh dei consumi e eh produzione di hamburger a base di carne vegetale ovvero Beyond Meat. Eh Beyond Meat che eh ieri chiude eh la eh chiusura eh borsistica con un meno quattro per cento oggi che in pre-market stampa quasi un meno venti per cento. Oggi chiaramente ne parlo per chi come me ahimè ha queste azioni e questa società all'interno del eh portafoglio. Andiamo ad analizzare gli earnings perché che è appunto eh ieri aftermarket ha avuto i dati eh trimestrali e cerchiamo poi di eh capire se nel futuro può comunque essere un buon investimento. Prima di arrivare a capire un po' quello che sta succedendo all'azienda ah all'azienda della sigla. Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido. I miei soldi li gestisco io. E rieccoci e e ben ritrovati. Come annunciato ad inizio di questo video oggi andiamo a parlare di eh società eh americana eh nata nel duemila e nove con sede a Los Angeles eh uno dei pionieri per quanto riguarda il business dei consumi appunto per quanto riguarda l'hamburger a base eh vegetale che sa di carne col sentore di carne ed effettivamente per chi magari come me l'ha già assaggiato e eh provato effettivamente sa proprio eh di carne quindi un'alternativa soprattutto per i eh vegani o vegetariani che siano. Ne parliamo quest'oggi non per la bontà del prodotto che va a offrire Bion Meat ma appunto per la nostra situazione finanziaria che ci troviamo eh di fronte. Difatti eh come dicevo ieri eh chiude eh male eh con un meno quattro per cento ma eccolo qua il pre market adesso sono le quindici quando sto eh registrando questo video nella quale troviamo un pre marketing negativo del meno eh diciotto per cento. Un'azienda comunque con una discreta capitalizzazione quattro eh e nove miliardi di eh dollari un'azienda che eh sembrava un po' nei giorni scorse aver ripreso una possibile trend rialzista ma eh che poi eh questo trend è stato smentito proprio con eh le ultime due tre sedute di borsa e con questo pre market post earnings. Ora vi faccio eh un attimo vedere perché c'era stata eh proprio eh intorno alla fine di ottobre in particolare adesso vi dico il giorno preciso eccolo qua il ventidue eh di ottobre l'azienda aveva già dato dei predati, dei pre earnings per quanto riguarda il eh Q3 eh dell'azienda. Eh i dati non erano stati già, i predati non erano stati già eh positivi. Eh però c'era stata poi una buona ripresa, vedete eccola qua, la ripresa di cui parlo, una ripresa che aveva fatto eh risalire il prezzo del titolo da, andiamo a vederlo un po' un po' meglio, da area novantatré fino ad area centosette perché dopo i dati, i predati eh non molto positivi era eh partito eh la vendita, era partita la vendita dei primi hamburger eh con la partnership eh con McDonald's eh una partnership che già è nata in passato ma che il primo hamburger, il vero e proprio hamburger McPlant è stato distribuito proprio lunedì eh scorso o lunedì ecco di questa eh settimana quindi una cosa molto molto recente. Tra l'altro faccio notare che non si chiama Mac o Beyond Meat Burger eccetera ma McPlant e questo è una mossa secondo me molto importante da definire da parte di McDonald's perché non si vuole secondo me andare a legare proprio con il brand Beyond Meat ma lasciando McPlant lascia un nome un pochettino generico il che eh sì magari sicuramente in questo momento un pro per quanto riguarda Beyond Meat perché le crescite eh di delle vendite potranno nel futuro aumentare perché da una nicchia diciamo ristretta di clientela si andrà ovviamente un po' eh sulla massa ma che appunto non lega il brand Beyond Meat proprio a eh McDonald's. Ehm io quando ho visto un po' questo questa ripartenza questo rialzo cosa ho pensato e come ho ragionato dal punto di vista azionario eh proprio eh essendo dei dati in pre-market ho detto vabbè eh questi dati sono stati non molto positivi però nonostante l'arrivo degli earnings e questa notizia della vendita dei primi hamburger ho detto io entro provo a entrare nella società metto dentro intanto eh qualche azione e sul mio conto reale personale sono entrato eh in area centosette quindi ovviamente vi sto parlando di una società che in questo momento io all'interno del mio portafoglio ho in perdita in questo caso quindi apprezzate anche la la trasparenza con cui vado a fare poi eh questa spiegazione eh quindi entro in area centosette circa eh gli ultimi le ultime giornate le ultime sedute non sono eh state appunto un granché eh fino poi all'arrivo eh dei dati eh trimestrali del Q3 che sono stati emanati proprio ieri sera dopo la eh chiusura del mercato che adesso andiamo a eh commentare insieme vi ho preparato una piccola eh immagine che vi lascio in particolare andiamo a vedere i due dati più importanti ovvero gli utili per azione cioè gli EPS e le entrate ehm che si prevedevano e quelle dichiarate da parte di Beyond Meat. Allora l'earnest per share eh si si aspettava già eh una previsione negativa eh quindi un un utile per azione negativo significa che e dopo lo vedremo anche che l'azienda fino ad ora non sta facendo utili. Partiamo da questo presupposto però chiaramente anche il mio interesse di investire in questa società nonostante questo momento non stava facendo utile è un investimento e ha un orizzonte temporale molto lungo chiaramente. Eh in ogni caso la previsione dell'utile per azione dell'EPS era di negativa negativa di eh zero e trentanove centesimi e ha dichiarato eh una utile per azione di meno zero ottantasette centesimi quindi è stato ancora più negativo rispetto alle aspettative eh delle neanisti. Anche le entrate sono eh state negative perché si prevedevano delle entrate da centonove eh milioni di dollari con un dichiarato da parte di Beyond Meat di centosei di regola quattro milioni di dollari e in particolare sulle entrate c'è una precisazione che voglio fare perché dal punto di vista internazionale comunque l'azienda ha fatto bene c'è stato un gran calo negli Stati Uniti comunque tenete presente che uno dei più dei periodi più fiorenti per quanto riguarda ehm la vendita di questi hamburger è il periodo estivo perché si fanno le grigliate so che può sembrare una banalità ma come chiaramente per gli hamburger di carne eh c'è l'opzione vegetariana su cui appunto si possono creare i panini appunto per grigliate eh con eh gli amici che anche a me personalmente piacciono tanto eh detto questo andiamo a vedere anche questi dati con uno dei siti che utilizzo eh maggiormente che è TipRanks eh qua siamo già aggiornati perché vediamo proprio in questo momento il dato del Q3 proprio quello di ieri sera queste erano le aspettative degli analisti ecco qua la sovra performance in negativo da parte degli EPS proprio di eh Beyond Meat di cui parlavo prima ora aspettiamo quindi la chiusura eh dell'anno con il Q4 che avverrà con eh in marzo del duemila e ventidue in questo caso ehm dal punto di vista eh di dati che cos'è che ha creato queste difficoltà all'azienda? Allora intanto una eh delle difficoltà più eh elevate che ha riscontrato la società è stato l'incremento dei costi di trasporto e di magazzino che ovviamente hanno sfavorito la crescita eh delle entrate appunto aziendali che hanno poi fatto segnalare eh una negatività ehm rispetto alle aspettative e un'altra cosa eh che ha creato molta difficoltà e eh è stata stimata dall'azienda lì già una perdita eh sul fattorato di nove milioni di dollari è stata una ehm danno una difficoltà non molto specificata su eh sull'acqua eh che ehm viene utilizzata da uno dei più grossi stabilimenti di Bion Meat per la creazione di questi hamburger eh vegetali che ovviamente sono ricchi di tantissimi componenti ma ovviamente l'acqua fa eh da padrone nella creazione appunto di questo hamburger. Ehm si si aspettava tra un altro eh la realizzazione del primo utile da parte dell'azienda nel duemila e ventidue con questa conferenza slitta la data del primo vero utile che andrà a realizzare l'azienda nel duemila e ventitré quindi dobbiamo aspettare ancora un anno intero se non che comunque eh si prevede un Q4 quindi la chiusura con marzo del eh duemila e ventidue con dei dati eh più incoraggianti mettiamola così. Eh vado a contestualizzarvi un attimino anche ciò che vi ho detto in questo momento perché se andiamo a vedere a tutti gli effetti dati finanziari di Bion Meat quali vediamo con il fondamento dell'explorer su base annua eh vediamo che eh qua parliamo di entrate lurde vado a vedere quelle quelle nette già che sono quelle che ci interessano eccole qua le net income e eh vedete che era partita dal duemila e sedici con una negatività eh era stata poi incrementata nel duemila e diciassette un pelo ridotta nel duemila e diciotto poi un bel balzo tra duemila e diciotto duemila e diciannove fino ad arrivare poi a a un dato molto negativo di entrate net di meno cinquantadue e sessantotto nel duemila e venti li giustificate chiaramente un po' dal lockdown e dalle difficoltà con il covid vedete però una variazione negativa eh duemila e venti rispetto al duemila e al duemila e diciannove del meno trecento ventitré sessantotto per cento a tutti gli effetti ecco qua vedete il numerone zero che ci dà il nostro fondamento dell'explorer attualmente ripeto la società non sta generando degli utili ora andiamo a vedere un attimino il grafico cosa sta succedendo dal punto di vista tecnico sull'azienda vi ricordo siamo ancora in pre market e do attualmente un area di possibile supporto un'area con la trend line segnalata a settanta dollari circa che è una area già testata vedete nel duemila e diciannove non tengo di conto l'area toccata da cinquanta dollari con il covid perché se situazione diciamo particolare per quanto riguarda la situazione dei mercati eh però attualmente cosa troviamo di fronte troviamo un'azienda che da inizio anno dopo dei forti balzi eh perché comunque ha portato l'azienda a toccare anche i livelli di prezzo intorno ai eh duecento duecento venticinque eh dollari vedete che poi eh da più o meno gennaio adesso vi tiro anche una piccola linea in percentuale arrivando ad oggi l'azienda ha perso sul mercato circa una sessantacinque per cento il che è parecchio dal punto di vista tecnico siamo ampiamente sotto alla media duecento eh periodi vedete che anche le bande di bollinger si stanno un pochettino allargando e allargando quindi partirà e si allargerà aumenterà la volatilità all'interno eh di questa azienda eh abbiamo anche eh un MACD che attualmente ci dà ancora un histogramma positivo ma con l'apertura di oggi sicuramente farà un incrocio di carattere ribassista con vedete le RSI che pian piano sta andando in zona di ipervenduto ora eh parliamo eh di aree e tutto il resto secondo me comunque anche toccando area settanta area settanta è un buon prezzo per acquistare questa azienda eh tenete presente ripeto che deve essere questo un investimento di lunghissimo termine perché è comunque un concetto anche a livello diciamo al di là del mercato che si svilupperà con eh con il tempo quello della carne a base vegetale chiaramente sto parlando quindi a dare a settanta può essere secondo me una un buon investimento eh con le dovute precauzioni perché chiaramente ci troviamo di fronte a un titolo è una società che si trova in questo momento un po' in difficoltà eh per chi come me chiaramente ha dei prezzi un pochettino più elevati ecco in queste situazioni allora bisogna farsi due conti chiaramente cercare di capire prima di tutto se siamo ancora dentro nel nostro money management quella è la cosa principale io di solito adotto una massima perdita del due per cento di quello che è il capitale che metto a disposizione per l'azionario quindi attualmente mi ritrovo ancora all'interno di quella che è la mia massima perdita però è ovvio che trovarsi un titolo con magari un portafoglio un meno venti venticinque per cento è ovvio che non fa piacere a nessuno per cui cerchiamo poi questa sera con il laboratorio operativo in azione insieme ai ehm agli amici della trading club appunto in azione di capire come potersi muovere eh in questa società ehm il trading club è quello che vedrete questa sera ore diciotto e trenta eh è svolto sul mio e nostro conto reale quindi vedete proprio sviluppare sul ragionamento sul conto a livello operativo qua vi vorrei invitare un po' tutti voi amici di youtube trovate il link in descrizione a questo video siete miei e i nostri ospiti per quanto riguarda questa diretta parleremo ovviamente di BioMeet per capire come muoverci visto che ce l'abbiamo in portafoglio ma ovviamente eh parleremo anche di altre società altre situazioni quindi venite a dare un'occhiata così ci conoscete sempre meglio bene questo è un po' quello che penso per quanto riguarda BioMeet vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi aspetto ai prossimi video ciao a tutti grazie 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 grazie